Buongiorno! Matite colorate, penne, caramelle e zainetti con il logo dell'arma dei carabinieri. A portarli il regalo ai piccoli ricoverati nel reparto di pediatria del San Donato, una delegazione del comando provinciale dei carabinieri di Arezzo. Vuoi un chicco? Lasciamo un chicco? Presente anche Babbo Natale che ha consegnato personalmente i regali ai bambini ricoverati accompagnato dagli Elfi e con il sottofondo musicale della filarmonica Guido Monaco. Un appuntamento annuale che si ripete da molti anni e che fa molto felici noi dello staff e tantissimo le famiglie e i bambini ricoverati. Un modo per portare vicinanza ai piccoli ricoverati e regalare un sorriso facendoli sentire meno soli in un periodo dell'anno solitamente all'insegna della festa in famiglia. In questo momento noi stiamo accogliendo una serie numerosa di bambini con patologie acute, influenzali, infettive delle vie respiratorie, dove la degenza è una degenza breve con una prognosi di risoluzione completa nel giro di pochi giorni. Purtroppo ci sono anche bambini e ragazzi con patologie più prolungate che dovranno sostare anche durante il periodo proprio del Natale e dei giorni successivi. Grazie.